Martin Lutero, il riformatore della Chiesa. Martin Lutero, 1483-1546, è stato un teologo, monaco agostiniano, professore universitario e fondatore della riforma protestante. Le sue idee religiose, che si basavano sulla dottrina della giustificazione per sola fede, hanno avuto un impatto profondo sulla storia dell'Europa e del mondo. L'infanzia e la giovinezza. Lutero nacque a Eisleben, in Germania, nel 1483. Suo padre era un minatore di rame e voleva che suo figlio diventasse avvocato. Lutero studiò legge all'Università di Erfurt, ma nel 1505, durante un temporale, fece voto di diventare monaco se fosse stato salvato. Dopo aver superato l'esperienza, entrò nell'ordine agostiniano. La crisi religiosa. Lutero iniziò a studiare la Bibbia e si convinse che la salvezza non poteva essere ottenuta attraverso le opere buone o le indulgenze, ma solo per grazia di Dio. Questa convinzione lo portò a una profonda crisi religiosa, che lo condusse a mettere in discussione l'autorità della Chiesa Cattolica. Le 95 tesi. Nel 1517, Lutero affisse alla porta della cattedrale di Wittenberg una serie di 95 tesi, in cui criticava la vendita delle indulgenze, una pratica della Chiesa Cattolica che consisteva nel vendere la remissione dei peccati in cambio di denaro. Le tesi di Lutero ebbero un grande impatto e iniziarono a diffondersi rapidamente in tutta la Germania. La scomunica. Nel 1520, il papa Leone X scomunicò Lutero, che continuò a diffondere le sue idee attraverso la stampa. Nel 1521, Lutero fu convocato alla dieta di Worms, dove fu costretto a ritrattare le sue tesi. Lutero rifiutò di ritrattare e fu dichiarato eretico. La riforma protestante. Le idee di Lutero si diffusero rapidamente in Germania e in altri paesi europei, dando vita alla riforma protestante. La riforma provocò un profondo scisma all'interno della Chiesa Cattolica e portò alla nascita di nuove confessioni cristiane, tra cui la Chiesa Luterana. La riforma protestante di Martin Lutero. La riforma protestante fu un movimento religioso, politico e culturale che ebbe luogo in Europa nel XVI secolo. Fu innescata dalle critiche di Martin Lutero alla Chiesa Cattolica, che egli riteneva corrotta e infedele al messaggio evangelico. Le cause della riforma. Le cause della riforma protestante sono molteplici e complesse. Tra i fattori più importanti si possono annoverare. La corruzione della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica del XVI secolo era un'istituzione ricca e potente, ma anche corrotta e inefficace. Il papato era spesso coinvolto in intrighi politici e la Chiesa era accusata di sfruttare i fedeli con la vendita delle indulgenze.Il desiderio di riforma. Già nel XV secolo, alcuni movimenti religiosi, come i Valdesi e i Ussiti, avevano espresso la necessità di riformare la Chiesa Cattolica L.A diffusione della cultura umanistica. L'umanesimo, con il suo interesse per la Bibbia e per la religione primitiva, contribuì a diffondere un nuovo spirito di critica nei confronti della Chiesa Cattolica. Tra le principali tesi di Lutero v'erano, la salvezza non si ottiene con le opere buone, ma solo con la fede in Cristo. La Bibbia è l'unica fonte di autorità religiosa. Il Papa non è il capo assoluto della Chiesa. La diffusione della riforma. Le tesi di Lutero furono rapidamente diffuse in tutta la Germania. La riforma protestante trovò un terreno fertile tra i principi tedeschi, che erano desiderosi di ridurre il potere del Papa e di rafforzare il proprio potere. Nel 1521, Lutero fu convocato al concilio di Worms, dove fu condannato come eretico. Lutero fu costretto a rifugiarsi in Sassonia, dove continuò a diffondere la sua dottrina. Nel corso del XVI secolo, la riforma protestante si diffuse in tutta Europa. In Svizzera, Ulrich Zwingli e Giovanni Calvino elaborarono nuove dottrine protestanti. In Inghilterra, Enrico VIII si proclamò capo della Chiesa d'Inghilterra, dando vita alla Chiesa anglicana. Le conseguenze della riforma. La riforma protestante ebbe conseguenze profonde sulla storia dell'Europa. Essa portò alla divisione della cristianità in due grandi confessioni, la Chiesa cattolica e le Chiese protestanti. La riforma protestante ebbe anche un impatto significativo sulla politica europea. Essa contribuì a rafforzare il potere dei principi tedeschi e a indebolire il potere del Papa. La riforma protestante di Martin Lutero. La riforma protestante di Martin Lutero fu un evento di grande importanza nella storia dell'Europa. Essa segnò l'inizio di una nuova era nella storia del cristianesimo e contribuì a plasmare la società europea moderna. Le idee teologiche di Lutero. Le idee teologiche di Lutero si basavano su tre principi fondamentali. La giustificazione per sola fede. Lutero sosteneva che la salvezza non poteva essere ottenuta attraverso le opere buone o le indulgenze, ma solo per grazia di Dio. Il libero esame, Lutero sosteneva che ogni persona aveva il diritto di interpretare la Bibbia liberamente, senza l'intermediazione della Chiesa.